Da UniEuro fino all'11 aprile, se compri un nuovo pc fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 300 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio pc lo ritiriamo a casa tua, perché UniEuro batte forte, sempre. Spesa minima 299 euro. Dettagli e regolamento su UniEuro-Promozioni.it J. Kolda ufficialmente inizio alle danze, è iniziata la guerra nel mondo del rap internazionale, una guerra che coinvolgerà tutti. Io sono tra l'altro insonne questa notte, quindi mi ritrovo catapultato in un orario molto americano, senza aver dormito, e diciamo che adesso sarà ancora più complesso. L'inizio di questa guerra, di questi schieramenti che vedono Drake da una parte con J. Kolda, dall'altra parte Future, Metro Boomin, ma il primo attacco è stato sferrato nei confronti di Kendrick Lamar, in quanto J. Kolda, in questa traccia del suo nuovo disco, l'ultima, quindi 7 minuti drill, è una roba del genere, 7 minutes drill, praticamente lo accusa di essere non il dio del rap che dice di essere, ma di esserlo stato forse, forse all'inizio, in principio, nel primo disco, ma ormai è un lontano ricordo. Ed è un pensiero anche molto più comune di quello che sembra, in verità, perché questo artista si sia seduto un po' sugli allori e che non abbia più avuto lo stimolo di dimostrare di essere il migliore, forse perché nessuno lo ha più sfidato così sfacciatamente, sfacciatamente, scusate, ma veramente sto out. E c'è arrivato, insomma, adesso questo attacco e sicuramente adesso dovrà tirar fuori il meglio, io credo che sta roba qua può tranquillamente essere una cosa che si sono messi d'accordo tra di loro per tirare fuori il delirio, non credo, sto scherzando, però sarebbe stata un'ottima mossa, anche quella, perché comunque c'è veramente, ora succede il pandemonio, ora questi si fanno male per davvero. Il disco di Metro Future in uscita, quello sarà veramente rivelatorio, Drake dietro che muove le fila, pronto, pronto, col caricatore carico, sto solo aspettando il momento giusto per sparare e veramente sono tantissimi gli artisti che possono schierarsi, ma soprattutto adesso è attesa alla risposta, perché questa è solo una miccia, è solo un inizio, una piccola provocazione, un piccolo assalto, la vera guerra deve ancora iniziare. Adesso ci vuole veramente, ci tocca stare connessi 24H perché in ogni momento può accadere di tutto e noi commenteremo ogni dettaglio qui sul monologato.